Clima incandescente nella serata di ieri durante la seduta del Consiglio Unione della Valmalenco. Alla base del contendere sta la rimodulazione delle spese relative ai tre comuni che compongono l'Unione, Chiesa Valmalenco, Lanzada e Caspoggio. Nel 2011 le condizioni finanziarie di quest'ultimo centro, causa un abbassamento delle proprie economie, avevano dato origine ad una rimodulazione delle spese percentuali spettanti ai tre comuni. E così, nel concreto, dal 50% delle quote finalizzate ai servizi del Comune di Chiesa e dai rispettivi 25% spettanti a Lanzada e Caspoggio sin dal 2001, si era passati nel 2011 ad un innalzamento del 2% per i comuni di Chiesa e Lanzada, un gesto che aveva portato ad un risparmio per il paese di Caspoggio, contribuente ora del 21%, di più di 80.000 euro annui. Risparmi che in questi otto anni hanno permesso un sostanziale risanamento delle casse del paese Malenco, con la conseguente richiesta da parte dei comuni di Chiesa e Lanzada di un ritorno alla vecchia ridistribuzione delle aliquote. Risultato, l'incontro di ieri sera, durante il quale la sindaca di Chiesa e presidente dell'Unione, Renata Petrella, ha teso a precisare che sia il Comune dal rappresentato che quello di Lanzada avevano dato l'ok alla rimodulazione e che, dato il voto contrario del paese di Caspoggio, si sarebbe dovuti giungere ad una decisione non per unanimità ma per maggioranza di voti. Impossibile chiudere il bilancio con un'aliquota al 25%, categorico il primo cittadino di Caspoggio, Daniele Bruseghini, che presagisce un meno 86.000 euro traducibile in taglia ai servizi. La soluzione? Portare Caspoggio dal 21% di aliquota attuale al 22%, portando Lanzada a pagare il 28% e mantenendo Chiesa al 50%. Da qui, la reazione del sindaco di Lanzada, Cristian Nana, dal 2014, per noi è come se vi fosse stato un innalzamento dell'aliquota fino al 32%. Da parte sua, il sindaco di Caspoggio lamenta il possibile default senza timore di dover mostrare i bilanci comunali. Bruseghini che, altresì, torna a parlare dell'importanza della nuova seggiovia che, afferma, fa bene a tutta la Valmalenco senza avervi mai chiesto contributi in merito. Lo stesso primo cittadino punta il dito contro il Comune di Lanzada che, parole di Bruseghini, non viene in aiuto. E così, nel momento dell'alzata di mano per il ritorno alle aliquote del 2001, l'atto finale della riunione, con l'abbandono della seduta da parte del sindaco di Caspoggio, affiancato dal consigliere Oscar Pegorari. Per la fusione fra i tre comuni bisognerà attendere tempi migliori.